Alla Chiesa sta a cuore la scuola come bene sociale, come bene comune, come bene della persona. La Chiesa è per la scuola ed è per tutta la scuola. Infatti solo una società che sa investire risorse economiche umane nella formazione e nell'innovazione in ambito scolastico può prepararsi ad un futuro nel quale le persone non vengano subordinate alle scelte scientifiche, economiche, finanziarie e aggiungerei anche mediatiche. Questa è la scuola paritaria, questa è la scuola cattolica, non è la scuola dei ricchi, è la scuola dei genitori che chiedono alle nostre suore se possono portare i bambini venti minuti prima perché devono andare al lavoro, non è la scuola dei ricchi. E questo deve entrare anche nel mondo cattolico. Scuola paritaria uguale scuola privata? No! La scuola è pubblica, statale e paritaria. Tutti ci chiedono come sarà il nuovo anno scolastico, il nuovo anno alla ripresa dei lavori dopo l'estate, ma tutti si rendono conto anche che viviamo un momento di particolare difficoltà a causa della crisi che tutti conoscono. Pensiamo alla situazione Covid che ancora è in fase di riprogrammazione, di sviluppo, di cambiamento e tante altre situazioni che oggi noi non possiamo assolutamente prevedere. La scuola paritaria collabora al bene comune, o in Veneto, nella scuola dell'infanzia, su tre bambini due vanno alla scuola paritaria. Cito ancora Papa Francesco, però in un testo in cui Papa Francesco era arcivescovo in Argentina, Buenos Aires, e diceva educare è di per sé un atto di speranza. Non solo perché si educa per costruire un futuro, scommettendo su di esso, ma perché il fatto stesso di educare è attraversato da una prospettiva di speranza. La sfida educativa. Abbiamo intestato il nostro campus con tre parole, conoscenza, competitività, competenza, coraggio. È evidente che se non riusciamo a comprendere bene le situazioni non possiamo progettare il nostro futuro. È evidente che senza formare le competenze opportune, le opere non possono andare avanti, però ci rendiamo perfettamente conto che abbiamo necessità di avere anche tanto coraggio e tanta speranza, evidentemente. Lo scenario a cui ci prepariamo è abbastanza complesso. Parliamo per esempio della transizione ecologica, che richiede un cambiamento epocale anche per le nostre culture, anche per i nostri modi di vivere. Parliamo della digitalizzazione che ormai sta prendendo sempre il piede, come trasferire queste novità sempre più approfonditamente nell'ambito della scuola, nell'ambito della sanità, nell'ambito dell'assistenza. Riteniamo che la tecnologia sia una riflessione che anche gli enti ecclesiastici devono fare per migliorare le loro performance dal punto di vista per quanto riguarda le scuole, le case di accoglienza, per quanto concerne tutte le attività e le opere della Chiesa. Certamente per restare a passo con i tempi ci dobbiamo confrontare con queste nuove tecnologie e quindi dobbiamo formare il nostro personale, gli enti gestori, i docenti, i coordinatori didattici affinché imparino ad utilizzare prima e presto questi strumenti. Oggi avremo la nuova legge sul reclutamento del personale docente, la riforma della scuola che continua e che quotidianamente ci chiede di essere aggiornati ma anche di essere pronti ad accettare e a vivere i cambiamenti che ci aspettano. In questi contratti che sono stati rinnovati in un periodo particolare, in un periodo ancora caratterizzato dalla pandemia, si è inteso soprattutto sottolineare l'aspetto normativo del trattamento del personale con alcuni istituti che vengono alla luce innovativamente rispetto al passato. Penso ad esempio alle ferie solidali che sono un istituto molto importante in quanto chiamano gli altri lavoratori a sostenere eventuali problematiche di vita esistenziali dei colleghi di lavoro potendo loro cedere a determinate condizioni una parte delle loro ferie per poter conciliare meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro. Un altro aspetto importante che riguarda particolarmente la scuola è la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori, per i docenti che non sono abilitati e quindi è stata prevista la possibilità di prorogare oltre ai termini legali ma nell'ambito della delega che il legislatore ha attribuito alle parti sociali la durata dei contratti a tempo determinato per chi ancora non è stato abilitato. Una delle capacità secondo me importanti e uno dei punti nodali del nostro essere coloro che propongono una scuola paritaria è quello di saper leggere le esigenze del territorio e dare delle risposte a quelle che sono le situazioni di responsabilità che abbiamo nei confronti delle famiglie. Questo servizio che è rappresentato dalle scuole paritarie fin dall'infanzia rappresentano una eredità morale dei territori e anche tanta generosità di questi perché molti nascono non solo sono di ispirazione ma nascono dalla generosità delle comunità e oggi però c'è un tema è quello di come aiutarle queste istituzioni e come fare in modo che non si recida quella radice profonda che tiene insieme il territorio con le nostre realtà delle scuole paritarie dall'infanzia alle scuole della primaria a larga parte ovviamente si impegnano in questo campo ma anche le scuole medie e le scuole superiori. Occorre dunque riscoprire da parte di tutti la consapevolezza che la scuola paritaria non chiede sconti o rivendica privilegi ma è impegnata concretamente ogni giorno per costruire il bene comune in quello che è uno degli ambiti più importanti della vita sociale, l'educazione. Diciamo che i saperi classici, quelli tradizionali, sono sicuramente indispensabili ma non sono più utili a far fronte a questo contesto sociale che è sempre in continua evoluzione e cambiamento per cui la competenza professionale riflessiva può essere un ponte, anzi deve essere un ponte di collegamento tra il passato, il presente e la scuola del futuro che è quella che vogliamo progettare. Una delle problematiche sulle quali stiamo riflettendo è proprio anche quella dell'inclusione, fare in modo che le persone con problematiche di disabilità o con differenze di apprendimento possano essere sempre più accettate attraverso strategie di apprendimento incluse in quello che è la normale comunità scolastica. Quali sono le competenze che gli insegnanti, tutti gli insegnanti dovrebbero avere per supportare quelli che sono i processi inclusivi all'interno della scuola di oggi. Come si fa? Come si fa a fare questo? Beh, indubbiamente la formazione è uno degli aspetti chiave affinché i nostri insegnanti nella scuola italiana che ha una lunghissima tradizione di inclusione possano agire delle pratiche appunto quotidiane che sappiano supportare la diversità. Quando parliamo di relazione educativa non facciamo riferimento soltanto alla relazione col caregiver familiare ma anche con caregiver professionali come insegnanti ed educatori. E la relazione educativa con queste figure diventa davvero una pietra migliare per lo sviluppo proprio perché è attraverso l'incontro con l'altro, la mediazione appunto con l'altro che il bambino o la bambina può scoprire la realtà, esplorare la realtà e costruire la propria conoscenza del mondo e anche la propria conoscenza di sé. Anche la famiglia sta cambiando, il 30% delle famiglie ormai sono mononucleari e quindi anche il cambiamento della struttura per età avrà molti effetti sulle scuole, quindi anche sulle scuole di natura paritaria, sulla ricettività, sulla sanità, sugli ospedali, sulle case di riposo che dovranno evolversi e tenere presente che quello che finora abbiamo fatto sulla scorta di quello che c'era prima cambierà nel tempo e quindi avrà degli effetti che produrranno dei significativi cambiamenti. Le famiglie religiose hanno la necessità di adeguarsi ai cambiamenti ma soprattutto rimodellare i loro modelli di gestione in funzione della crescita dei costi, dei prezzi e dell'inflazione che ormai è un elemento che fa parte della nostra vita quotidiana. Tutte le attività, nessuna esclusa, e anche quelle di gestione dei servizi educativi ma di gestione degli enti religiosi o non, devono essere caratterizzate dalla sostenibilità, nel senso che devono poter in qualche modo garantire la continuità economica. Vuol dire che le entrate devono essere uguali o a limite superiore a quelle che sono le uscite. In un momento come questo dove la crisi ucraina ha posto l'accento sulle fonti energetiche e sulla dipendenza dell'Italia da fonti energetiche fossili, sempre più è importante lo sviluppo delle fonti rinnovabili ma ancora di più quello dell'efficienza energetica. Se si riuscisse a risparmiare il più possibile energia senza per questo diminuire i servizi sarebbe veramente molto importante. Gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaici sono degli impianti molto convenienti dal punto di vista economico e estremamente semplici dal punto di vista tecnico che sfruttano l'energia solare che è liberamente disponibile su tutto il territorio italiano che ha la fortuna di essere fortemente irradiato dalla radiazione solare e permettono di produrre energia elettrica a costi competitivi sicuramente soprattutto in un contesto di prezzi dell'energia che oggi come sappiamo sono molto elevati. Un gruppo di associazioni, un gruppo di cittadini, anche un istituto religioso nel caso di specie che appunto si mette nella condizione di produrre energia elettrica e ciò che non gli serve ma che produce lo mette in rete e lo fa consumare da quelli che appartengono a questa comunità energetica che ne hanno bisogno e qui si crea questo meccanismo virtuoso di chi produce l'energia elettrica per se stesso ma che poi la vende anche senza quindi ricorrere alla necessità di andarsela a trovare altrove visto che noi comunque dobbiamo sempre trovarla l'energia elettrica e non è che la produciamo, non abbiamo petrolio, non abbiamo gas. Questo vale anche per il settore sociale e per il settore sanitario evidentemente anche qui i cambiamenti politici e sociali interpellano le nostre istituzioni quindi l'attenzione è particolare anche questo per poter andare avanti con serenità perché la Chiesa possa continuare la sua missione nel mondo di oggi. Grazie a tutti